Bella ragazzi, qui è Ron e bentornati, siamo qui con questo nuovo video e siamo quest'oggi in live E in live perché appunto incombe l'arrivo di Modern Warfare 3, c'è ben poco da dire di questi giochi Quindi per fare qualcosa di diverso, vi propongo un po' di live anche perché molta gente mi aveva chiesto se potevo gentilmente fare un video con lo sniper in live Infatti oggi proveremo con lo sniper, fortunatamente ho appena selezionato tutti contro tutti, mi è capitato Wasteland Speriamo mi porti un po' fortuna che è una mappa dove solitamente col cecchino si fa abbastanza bene E tutti contro tutti appunto perché sennò dura troppo tempo, 12 minuti di concentrazione in live potrebbe essere devastante Quindi niente, speriamo di fare una buona parità, la terza parità della serata, le prime due sono state abbastanza bene, adesso proviamo con questa Come vedete, se avete fatto caso all'ID è Ronny perché è un nuovo account che ho fatto su Xbox Dato che mio cugino avendola lì ancora a far niente, me l'aveva già prestata un tempo, me l'ha ridata Dato che volevo un po' giocare con i miei amici su Skype, che sento sempre, li sento tutti i giorni ma non posso mai giocarci assieme Però prestamelo ancora un po' che voglio giocare un po' con loro Ovviamente la play è ancora lì, giocherò anche in quella, un po' tutte e due, adesso vedrò Era giusto per avere un po' i miei amici, giocarci un po' assieme insomma E ovviamente anche per voi diciamo che a livello di video non cambia proprio niente, insomma non è un problema Era giusto per avvisarvi E appunto tutti i nomi erano usati, ho dovuto cambiare da Ron, fare Ronny un po' così Fa niente, fa niente, pensiamo alla partita che è più importante E per me è anche molto difficile, vi giuro, giocare con lo sniper, già con le armi di solito io non sono Ecco, non sono un fanatico né un bravo commentatore in live per quanto mi riguarda Però dai si prova per fare qualcosa di diverso E con lo sniper solitamente devo avere un po' più di attenzione Quindi vi chiedo già scusa adesso per tutte le cazzate che dirò e che farò nel video perché Non mi è per niente facile Uav nemico individuato, a posto Appare il primo nemico, eccolo lì Non mi caga, non mi ha visto Mitraglietta, testina Ok, molto tranquilla questa, questa è un po' di meno Ok, per fortuna Uav Vabbè ne approfitto già in questo momento un attimo di pa... beh, tranquillo diciamo Sempre, di solito, babbo sulla mitraglietta Ok, testina anche a quello Eh, ne approfitto per dirvi che il prossimo video probabilmente sarà Eh, pochissimi giorni prima di Modern Warfare 3 sarà l'ultimo episodio Dato che ho un po' di clip Ecco, sono in mezzo alla mappa, non è il momento adatto per parlare di queste cose Eccolo Oh, arrivo subito col discorso Un attimo che devo scappare All'Ariel, ma non me la sento di tirarla in questo momento che mi semb... Ecco, infatti Uh, che culo Sapevo che non era il momento adatto per parlare di discorsi seri Adesso, speriamo che prenda una meno una kill che ho il pave low Perché mi sono dimenticato di cambiare le ricompense Di solito magari le abbasso un po' Ma ho Uav, Ariel e pave low perché le uso in dominio così Quindi Alziamo Ok, vabbè, fortunatamente Vi dicevo che il prossimo video probabilmente uscirà Ci sarà un altro video prima di uscire di Modern Warfare 3 Volevo fare il terzo episodio della serie Dato che ho un po' di clip di scarto di inferi E qualche clipettina registrata in questi giorni Volevo fare un piccolo episodio carino Insomma Per Diciamo dare l'ultimo video di Modern Warfare 2 E poi dedicarci ad altro Comunque questo Vi farò sapere Vi terrò aggiornate Anche magari tramite Facebook Per chi si è iscritto alla pagina No Beh, me l'ha rubato Ma era mio Cioè, l'antilororifico L'ho ferito L'ho sparato e me l'ha rubato qua alla fine Ma che cazzo Stanno nevando ride Allora, era normale Però intanto non tiriamo il pay blow Fortunatamente era un ride normale Ecco Come non detto Ride normale Arrivano gli hiver Che il pay blow me lo tirano giù Che cazzo Magnum Magnum fail Cazzo Due colpi Ok Ecco A posto Chi di coltello ferisce Di coltello ferisce Dicono Vabbè Ci diamo i proverbi Va bene Comunque Attimi Vi giuro Non so dove andare Perché c'è l'aria L'aria in queste mappe aperte Fa paura Devo nasconderti per forza Dentro da qualche parte Eccolo Lì uno Ma che Ah no Un altro Me l'ha rubato Fa niente Dai Due morti Tranquilli C'ho ancora il pay E mi hanno tirato giù Cioè Mi hanno tirato giù l'aria Non hanno tirato giù il pay blow Ma che cazzo Che fa Meglio così E questo Che cazzo ci fa qua Mi stava guardando da dietro Ok Sta andando fin troppo bene Per il momento Non so come Un attimo coincidato Ecco Oh No L'avevo preso Che cazzo Dai Mancano 5 uccisioni Ce la si fa Dai È un video molto breve Però dai Un po' per cambiare Ragazzi Adesso Dov'è finito Quello Quello Ma aspetta che Sarà nel corridoietto Infatti Ora tranquilli Andiamo un po' di qua Uh Uh Via Scappa che non ho visto uno lontano Ho visto un proiettile Passarmi davanti agli occhi Adesso Dai mancano tre uccisioni Eccone lì uno Dov'è Vediamo lì la Sentex Dai che sei sopra Sei sopra Ok Infatti Due alla fine Ce la si fa Dov'è Dov'è Ui eccolo Dai l'ultima L'ultima Eccolo lì Ui Oh ce l'abbiamo fatto Ragazzi 33 Mamma mia Non pensavo così bene Oddio Spero vi Vi sia piaciuto la partita Insomma Come al solito Io vi ringrazio a tutti Vi Vi Mi auguro Vi sia piaciuta la partita Eravamo in live Se volete lasciate di solito un mi piace Che per me è importantissimo Ragazzi Vi ringrazio di tutto Ci vediamo al prossimo video Qui era Ron Bella a tutti ragazzi Ciao